Luca Basic, siamo in ritiro a Cuneo per l'inizio di questa nuova stagione 2020-2021, una stagione un po' particolare visto come si arriva dopo ovviamente il Covid, si torna finalmente più che a giocare pallavolo a riprendere confidenza con la pallavolo. Com'è tornare finalmente a una quasi normalità dopo tanto tempo? Quali sono le prime sensazioni di questo ritorno alla pallavolo allenata più che giocata? Fa sicuramente grande piacere, fa tanto tempo che non abbiamo fatto cose che noi amiamo fare e quindi ovviamente è un grande piacere. Anche per me tornare in Italia mi fa molto piacere perché sono andato due mesi fa un po' in catastrofa, adesso torno, mi fa veramente molto piacere. Trovare i compagni anche di squadra, amici, nuovi compagni, quindi veramente entusiasta, siamo contenti. C'è tanta voglia di ricominciare, tanta voglia di tornare a fare quello che ovviamente voi amate, che è il vostro lavoro, che è la vostra passione. Hai detto tu, hai ritrovato tanti compagni del passato e anche tanti volti nuovi. C'è un tuo connazionale, ne è arrivato un altro che è Jean Patry, un gruppo che l'anno scorso è stata la forza di questa squadra. Questo ritiro, per quanto è solo l'inizio, però sta già dando l'idea del senso di gruppo, del senso di una grande famiglia, che è quello che poi è stata la forza di Powerball in Milano probabilmente. Nello scorso anno ovviamente avevamo un gruppo veramente fantastico, c'è quasi tutti amici, proprio una famiglia. E quindi quest'anno secondo me questo ritiro anche ci servirà tanto, stare due settimane insieme, 24 ore su 24, a creare questo ambiente, questa coesione. Affinità, sì, coesione, affinità. E quindi credo sia una cosa buona. Già si vede che comunque più o meno tutti si conosciamo e quindi secondo me sarà qualcosa di bene anche quest'anno. Tra i giocatori più veterani, chiamiamoli sì, con più anni in Power Volley, ci sei anche tu, perché sei alla tua terza stagione con Milano. Insomma, quando tre anni fa hai iniziato questa avventura, non so se ti immaginavi dopo tre anni di essere ancora qua. Cosa si prova ad essere uno dei più longevi in questa situazione? Io sono veramente contento, ma non so, qua ho trovato veramente come una famiglia, come ho detto prima. Veramente mi sento a casa qua. Quindi veramente, non lo so, mi sento veramente a casa, non so cosa dire di più. È bello, è bello così anche. Sì, sto benissimo e ecco. Ovviamente quando sono partito da Francia non mi aspettavo di magari integrarmi così tanto qua, però mi sento veramente a casa. Diciamo che è volato anche, questi due anni sono volati con Milano, con il dispiacere ovviamente di non aver chiuso la stagione scorsa, ma con la prospettiva di una nuova stagione interessante e, come dire, competitiva in Italia. Milano l'anno scorso lottava per il quarto o quinto posto, anche quest'anno la squadra allestita è una squadra che vuole lottare per gli stessi obiettivi. Insomma, sarà una stagione difficile, piena di impegni. Sì, sì, ovviamente. Adesso dobbiamo capire anche come si svilupperà il compionato e tutto questo. Però sì, noi cercheremo di fare il meglio che possiamo come squadra, anche come individualità e poi vedremo cosa ne esce. Sì, sì, quello che sarà, quali saranno i risultati che raggiungerà. Come hai ritrovato Piazza dopo tanti mesi senza pallavolo, sempre con la stessa carica? Sì, sì, Roby è sempre carico, è lo stesso allenatore che c'era prima, non ha cambiato niente, secondo me. Sempre carico, sempre al 100%, come si dice, sui dettagli. Sì, sì, sui dettagli, sempre attento a lavorare ai dettagli e ai particolari. Sì, è questo, quindi siamo contenti anche di ritrovarlo. Dicevamo prima, tra i tanti giocatori che sono arrivati, i nuovi giocatori, c'è un altro francese che fa compagnia a te, Gianpatrick, ci racconti qualcosa di questo ragazzo che è come te? Sì, io Jean lo conosco perché ho fatto, come si dice, il centro nazionale quando eravamo giovani a Mopelia insieme, quindi anche in nazionale giovanile con lui. È un bravo ragazzo ovviamente, è molto talentuoso, come lo sappiamo tutti. Adesso, non so cosa dire di più, vedrete voi. Sarà anche a lui di mostrare il suo valore con Milano. Sì, sì, però vi piacerà una brava persona. Come ti immagini questa stagione, anche per te a livello personale, questa terza stagione con Milano? Che tipo di stagione sarà in generale e che tipo di contributo tu puoi dare a questa squadra? Io, come sempre, in tutte le stagioni, io parto dal punto che sono giocatore della squadra, non c'è posizione, non c'è niente. Io sono giocatore della squadra e do il 100% di quello che ho ogni giorno per la squadra e per vincere, quindi è quello che farò quest'anno anche. Secondo me è quello che ho fatto sempre, quindi continuerò così. Grazie. Grazie.